Buongiorno a tutti, oggi cominciamo l'appuntamento pomeridiano con Digital Meet raccontando una bella storia che sta nascendo a Torino, che è nata un po' di anni fa, che è quella del MUPIN, ovvero sia del Museo Piemontese dell'Informatica. Allora, innanzitutto presentiamo i colleghi, in questo caso perché ammetto che nel MUPIN centro pure io nel mio piccolo, Andrea Poltonieri che è quello che vedete al piano di sotto nell'inquadratura, e Riccardo Ranieri che è quello che vedete al piano di sopra, alla mia alzezza, ma è un problema di layout. Il MUPIN è una realtà che da anni opera in Piemonte nell'ambito di tutto quello che riguarda la storia dell'informatica, del computer, il digitale, il racconto e la formazione per quelli che sono Digital Division che riguarda il digitale, ma che negli ultimi anni ha fatto dei saldi di qualità importanti che dovrebbero portare lo stesso in tempi brevi ad aprire un museo che dovrà diventare anche un polo di diffusione, di cultura, di storia, eccetera, eccetera. Cominciamo da Andrea Poltonieri che è anche il presidente del MUPIN. Andrea, tu sei stato fra i fondatori un po' di anni fa, raccontaci com'è andata. Ciao a tutti, grazie Vittorio. Io sono attualmente il presidente del MUPIN e sono uno dei cinque soci fondatori. Nel 12 un gruppetto di collezionisti di computer si sono trovati a condividere un intento che è quello, non dico di tutti i collezionisti perché non è così, ma di alcuni collezionisti che è di diffondere la conoscenza di ciò che collezionano. In realtà esiste un'ampia fascia, secondo me, in tutti i campi di collezionisti che preferiscono tenere i propri oggetti per sé, invece noi condividevamo l'idea di mostrare ciò che possediamo e condividerne la nostra passione con pubblico magari anche non così appassionato, ma che può essere interessato a certi argomenti. Quindi l'obiettivo che ci siamo dati costituendoci come associazione culturale è stato quello di creare un vero e proprio museo visitabile, un edificio, ma eravamo consapevoli che costruire un museo visitabile è un impegno sia in termini di lavoro, ma banalmente anche in termini economici davvero grande, non è alla portata di una persona normale. Certo, io posso aprire il mio garage e dire venite a vedere quello che ho e etichettarlo come museo, ma un museo richiede una preparazione sia dal punto di vista di preparazione di conoscenze, sia dal punto di vista di organizzazione del lavoro, sia banalmente di spazi che non è alla portata di un singolo. Unendo le forze, quindi abbiamo negli anni perseguito un piano che ci dovrebbe portare, ci avrebbe dovuto portare e ci sta portando all'apertura di un vero e proprio spazio espositivo. Questo unire le forze, questo piano naturalmente ha richiesto parecchio lavoro. Innanzitutto abbiamo cercato di farci conoscere, perché come cinque appassionati di computer d'epoca avevamo una credibilità onestamente limitata per quanto alcuni di noi fossero sicuramente noti nell'ambiente dei retrocomputeristi, come si dice. Ma che cosa sono i retrocomputeristi? Spiegano un po' quelli non retro. giusto, giusto. I retrocomputeristi sono gli appassionati di computer del passato, sono coloro i quali amano possedere, utilizzare, aggiustare computer d'antiquariato, forse di modernariato si potrebbe dire parlando di computer, però oggi i computer hanno tranquillamente 40 anni. Giusto oggi nella sede della Mupin Clinic abbiamo rimesso in moto un HP 85 che ha 40 anni esattamente. Poi ci spiegherai che cos'è la Mupin Clinic, solo per capire, visto che in questo periodo le clinic saranno altre cose. No, la nostra è una clinic molto meno preoccupante. Ascolta, sentiamo un po' Riccardo cosa ci racconta di come si è avvicinato all'avventura Mupin e poi anche, vabbè, è evidente che sia te che Riccardo nella vita fate mestieri molto vicini all'informatica e al digitale, però mi sembra abbastanza lampante. Ric? Ciao, ciao, buonasera a tutti. Intanto grazie per l'invito. Io sono un retrocomputerista, stavo dicendo un po' prima, e mi sono avvicinato al Mupin l'anno scorso, era alla fine del 2019, in occasione di uno dei tanti eventi che organizzava il Mupin. Dico organizzava perché quest'anno è stato un po' più difficile, chiaramente, il tutto. Era un evento dedicato a Leonardo, Leonardo il calcolatore, che avevo visto per caso nelle notizie, forse su Quotidiano Piemontese, potrebbe essere che l'avevo letto. Un bel giornale, fai bene. Un bel giornale che si seguo in modo assiduo. Avevo visto questa iniziativa, ho detto, beh, andiamo a vedere. Diciamo, io sono più storicamente interessato alla parte più commerciale, diciamo, del retrocomputing. Questo era un evento veramente sulla storia dell'informatica, nel senso della storia della nascita, di le prime persone che hanno iniziato a pensare a cosa potevano inventarsi per fare informatica. Leonardo era uno di questi. Però appena mi sono avvicinato, sono entrato nella conferenza che era organizzata alla GAM di Torino, mi sono subito trovato a casa, perché ho visto su questo proiettore Andrea, che stava illustrando in quel caso un PC BM5150, cioè il primo PC della storia. Quindi poi mi sono seduto e non mi sono più alzato. Mi sono associato e è iniziata questa avventura, in cui poi ho trovato degli amici, principalmente, perché una delle cose più belle che ho trovato al MUPI sono dei nuovi amici, che non è cosa da niente. Ascoltate, allora io racconto adesso però quello che poteva essere il momento fatal, fatal error, per usare un termine informatico, cioè il 2016, quando tutte le aree di stoccaggio di tutti i computer, di tutto il materiale di competenza del MUPI, che si trovavano nella zona di Moncaglieri e dintorni, finirono sotto l'acqua e sostanzialmente rischiarono di mandare tutta carta e 48. Ci fu, diciamo pure, una bella catena di solidarietà che permise poi, compatibilmente con tante cose, di trasferire tutto quello che poteva essere trasferito in quelli che sono gli attuali magazzini del MUPI, che si trovano a Mirafiori, a MRF, quindi nelle vecchie stabilimenti di Fiat. E poi che cosa è successo? È successo che dopo un po' di anni finalmente qualcuno, ovvero sia il Comune di Torino, si è reso disponibile a dare degli spazi per realizzare quella realtà museale di cui parlava prima Andrea. Racconta un po'. Il Comune di Torino e la circoscrizione 5, ormai circa un anno fa, dopo una serie di indagini conoscitive per capire chi siamo e cosa facciamo, hanno deciso di assegnarci uno spazio, una sede. In questo momento in via Race Romoli a Torino. Mi vedo costretto a correggerla, non più in via Race Romoli. È vero, è vero. Nella nuovissima piazza Riccardo Valla, inaugurata con questo nome una settimana fa, devo abituarmi, abbiamo una sede, uno spazio abbastanza ampio di oltre 1000 metri quadri, che la nostra associazione, grazie al lavoro dei volontari e ai finanziamenti di alcuni sponsor, sta approntando come un vero e proprio allestimento museale. Un allestimento museale che comprende sia un percorso storico sulla storia dell'informatica, sia degli spazi diciamo più formativi, degli spazi dove potranno essere tenuti degli eventi di formazione o di divulgazione, e la Mupin Clinic, cioè di cui ho parlato prima, lo spazio che è già funzionante, dove i nostri soci possono restaurare le vecchie glorie dell'informatica. In questo momento la sede non è aperta visitabile, l'inaugurazione è prevista, dico per l'anno prossimo, perché in questo momento fare dei piani precisi è un po' difficile. Ecco, vediamo nel frattempo il sito del Mupin, però i lavori procedono spediti. Ok, Riccardo tu ti sei occupato di molte cose quest'anno, tra cui un'esperienza molto bella che hai gestito in una maniera meravigliosa secondo me, che sono i Mupin Talk, ti sei inventato regista, ce la vuoi raccontare? Sì, volentieri, Mupin Talk sono davvero molto contento dell'esperienza di Mupin Talk, che tra l'altro si sta per ripetere, cioè dovremmo partire con la seconda stagione il prossimo mese, probabilmente durante il mese di novembre. Durante, all'inizio del lockdown abbiamo iniziato a parlare tra soci in una delle nostre riunioni, che in questo caso era in streaming, per forza di cose, di cosa si poteva fare non potendo fare altro. E è venuta l'idea di creare una serie di, all'inizio doveva essere uno o due appuntamenti sperimentali, poi è diventata una serie, per fortuna, di talk show online con ospiti che non dovessero essere per forza i soci stessi, ovviamente, quindi ospiti di vari mondi legati alla scena retrocomputing o comunque alla storia dell'informatica. E così abbiamo sfornato, in questo caso per la prima stagione, 10 puntate, ognuna con ospiti diversi, con una tematica diversa, ognuna di una durata più o meno di un'ora, un'ora e mezza a seconda della serata, andando in onda, in onda, andando in streaming, ogni settimana, di giovedì, sempre alle nove e mezza, quindi voglio l'occasione per dirvi che probabilmente sarà confermato anche quest'anno, avremo questo orario, questo giorno, probabilmente faremo una settimana sì, una settimana no, per coprire anche lo spazio dell'inverno, diciamo, che si preannuncia lungo. Ecco che sta partendo, sta arrivando la cicletta, un momento di... Ecco, ne avete visto che ne è partita, che ne è partita, è partita anche Elena Vitti, allora, dicevamo, e tra l'altro, appunto, le puntate, tutte le 10 puntate che sono state fatte della prima serie, sono tutte online, dove le possiamo trovare? Le potete trovare sia su Facebook, sulla nostra pagina, c'è proprio la stagione, si può trovare la serie Mooping Talk, con tutta la prima stagione, e anche su YouTube, sulla pagina YouTube di Mooping. Sì, dicevi giustamente, Vittorio, che mi sono rinventato, regista, perché in realtà io, pur essendo informatico, non ho mai fatto, non è il mio mestiere, in effetti, fare produzioni video, però è una cosa che mi ha sempre molto divertito, e quindi effettivamente il Mooping è stato in questa cosa un'occasione anche per provare a fare una cosa che effettivamente non è nella mia professionalità, ma che comunque mi sarebbe sempre piaciuto fare, quindi benvenga. Bene, molto bene, e volevo chiedere un'altra cosa, c'è anche stato uno sforzo che però appunto quest'anno si è dovuto fermare, causa Covid, per fare dei corsi per i ragazzi, i coderdoge, cose del genere, Andrea ci racconti che cosa l'è? Ci sono una cosa che si chiama Mooping Lab, mi sembra di capire. Esatto, esatto. Mooping Lab è la struttura, l'organizzazione all'interno della nostra associazione che si occupa di formazione. Avevamo partiti con alcuni corsi divulgativi a tema informatico per non informatici, introduzione ad Arduino e grazie al coinvolgimento del gruppo Coder Dojo Torino, il cui referente è il nostro socio Elia Bellussi, avevamo iniziato a tenere corsi, a tenere momenti di introduzione al coding per bambini aperti a tutti. Un'attività devo dire che ha dato certe soddisfazioni e anche ci ha consentito di metterci in contatto e farci conoscere da un pubblico molto più vasto e molto diverso da quello che di solito si interessa all'retrocomputing. Rick, senti, tu sei un appassionato di alcune tipologie di computer, hai raccontato delle cose molto interessanti durante appunto i Mooping Talk. Le comunità di retrocomputeristi che si occupano di queste sono oramai diventate, ad esempio io vedo quando gli Amica, quando vanno in giro, piuttosto che come la 64, tutta la gente si attacca perché una generazione di persone è cresciuto usando questa tipologia di computer. Ce ne sono ancora molti di appassionati e che cosa fanno per, come dire, realizzare questa loro passione? Ci sono tantissimi appassionati, più o meno appassionati, nel senso che ci sono appassionati diciamo profondi come i sottoscrittori, come tanti nostri altri soci, ma ci sono, io trovo che ci sia moltissima gente che ricorda con nostalgia e con piacere gli anni in cui hanno potuto utilizzare il Commodore 64, Spectrum, Amiga naturalmente e quando li rivedono, quando hanno la possibilità di rivederli, di rimetterci le mani sopra, ne sono molto felici perché ricordano, chiaramente in questo caso la macchina è la chiave d'ingresso per poi ricordarsi di tutta una serie di cose, di momenti passati magari in famiglia piacevoli e così via, quindi non è soltanto l'hardware in sé, il fulcro di tutto, però è un modo per ricordarsi tante altre cose belle del proprio passato. Andrea, l'anno scorso ci sono state molte attività legate a Leonardo perché era l'annata di Leonardo, lo sapevamo tutti eccetera eccetera, che cosa è stato fatto dal Mupin e in che ambiti? Perché poi c'è questa storia di questo calcolatore di Leonardo che per alcuni un po' come direbbero a Roma una sola, per altri è comunque una cosa perlomeno interessante come punto di partenza. Senz'altro, dal nostro punto di vista, dal punto di vista di appassionati di storia dell'informatica e divulgatori nel campo della storia dell'informatica, lo spunto che non era stato molto toccato riguardo a Leonardo era quello del suo ipotetico progetto di una calcolatrice, senza scendere nei dettagli di tutto il nostro progetto di ricerca che potremmo illustrare, potrebbe prendere tutta una serata a illustrarlo. Nel Codice di Madrid, uno dei tanti raccolte di documenti di Leonardo, sono stati rinvenuti dei disegni che negli anni 60 erano stati da alcuni interpretati come disegni che rappresentavano una calcolatrice. Il tema è stato dibattuto e poi a fine anni 60 non si è smesso di parlarne. Noi l'anno scorso abbiamo cercato di dare un nostro contributo alla soluzione di questo dibattito, perché se Leonardo avesse inventato la calcolatrice sarebbe stato di oltre 100 anni in anticipo rispetto a Pascal o Schicca. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo avuto un approccio molto empirico che allo stesso Leonardo sarebbe piaciuto. Abbiamo preso il suo disegno, lo abbiamo riprodotto con un CAD 3D e poi rimanendo il più possibile fedeli a ciò che ha disegnato sulla carta di Leonardo, l'abbiamo stampato con una stampante 3D. In questo modo noi siamo passati con il minore numero di passaggi dal disegno all'oggetto fisico e lo abbiamo realizzato. Adesso il disegno di Leonardo reso solido è utilizzabile presso il Mupin, si può toccare, si può utilizzare e chi lo tocca può farsi la sua opinione se questo oggetto potesse essere una calcolatrice oppure no. Senza arrivare a una conclusione la lasciamo al pubblico. Ma a proposito appunto di quel che si diceva prima che è stato accennato della Mupin Clinic, questa Mupin Clinic, Ric, che cosa ci state combinando? Ci sono computer rotti che vengono sistemati, c'è una specie di operazione di salvataggio, la terapia intensiva per i computer scusatemi se uso un termine del genere. Allora al Mupin Clinic innanzitutto l'importanza di questa sala che abbiamo dedicato alla riparazione di computer o comunque di hardware è proprio la presenza di uno spazio dedicato perché molti di noi che hanno questa passione, io per primo hanno il problema di avere un luogo deputato a questa attività perché abbiamo il computer da riparare a casa, ci mettiamo un attimo sul tavolo del soggiorno, della cucina, occupiamo spazio, non possiamo lasciare a mezzo le cose perché chiaramente bisogna liberare poi in giornata questi spazi invece avere uno spazio dedicato a questo dove si può andare, si hanno a disposizione tutti gli strumenti che possono essere utili, quindi saldatore, uscilloscopio, tester, cacciavitti di ogni tipo, forma, stazione risaldante, insomma abbiamo di tutto, è un valore aggiunto credo per tutti i soci in Mupin che hanno la possibilità di accedere liberamente e usufruire di questo spazio sia appunto per occuparlo temporaneamente con anche il proprio computer che va riparato, oppure meglio riparare i computer della stessa Mupin che sono in attesa di essere sistemati, ma non è un'aula così, è uno spazio importante credo, l'abbiamo inaugurato sei mesi fa mi sembra, faceva caldo, era a giugno. Ci chiedono, bisogna essere soci per accedere alla Mupin Clinic? Eh sì, bisogna essere soci, però una volta vi sei soci... E come si fa a diventare soci, caro Presidente? Basta mettersi in contatto con l'associazione info at Mupin.it e accordarsi per venire a conoscersi di persona. Da lì in avanti è tutto facile, se l'associazione risponde alle aspettative di chi intende associarsi, noi siamo accoglienti e siamo sempre contenti di portare dentro nuove persone, nuove idee, nuove forze, perché l'asse più importante della nostra associazione non sono i computer, come amo dire, ma sono i soci. Sentite, ma c'è un problema che dobbiamo chiarire. Normalmente, o perlomeno da un po' di tempo fa, l'informatica era una roba tipicamente da uomini. Cioè, le donne, voi le accettate? Lascio la risposta a Riccardo. Riccardo, voi ci donne, soci del Mupin? Io non ho il potere esecutivo in questo, però mia moglie è socia, quindi penso che l'accettino. Ah no, la domanda era ovviamente faziosa, anche perché il Mupin ogni anno, anzi storicamente, una delle prime attività che ha fatto il Mupin era dedicarsi a raccontare la storia, prima di tutto, di una donna famosa che ha fatto, direi quasi secoli fa, ha inventato l'informatica e poi la storia, di che cosa si tratta? Vado io? Sì, vai, oppure come volete voi, vale tutto adesso. Adesso io sto cercando, leggendo le domande. Ok, ok. Allora, dal 13 il Mupin ha iniziato a celebrare anche in Italia l'Ada Lovelace Day, la giornata dedicata ad Ada Lovelace, che nel 1840 scrisse il primo software per un computer che non è mai stato costruito, la giornata per celebrare l'eccellenza femminile in campo scientifico e tecnologico in maniera più ampia, non strettamente informatica. Nel 13 non era un argomento così tanto diffuso come oggi l'inclusione delle donne in campi storicamente dominati dagli uomini. Noi siamo molto, molto orgogliosi di aver iniziato a parlarne in quel tempo. L'Ada Lovelace Day nasce in Inghilterra nel 9, se ricordo bene, e adesso è un movimento internazionale, sono organizzati contemporaneamente eventi in diverse sedi nel mondo. Vediamo solo in questo momento delle immagini dell'Ada Day degli anni scorsi. Molto bene, anche non molto tempo fa, due settimane fa, noi abbiamo avuto modo di essere ospitati presso la sale e colonne del Comune di Torino per interventi di divulgazione di ricercatrici e donne che possono portare, donne di successo nel campo scientifico che possono portare la loro testimonianza. Perfetto. Volevo chiedere una cosa, ci sono delle domande. Allora, prima domanda, bellissimo, figata, come, quando aprirete? Qui chiedono già, chiedono cose pratiche. Nel 21. Nel 21. Effettivamente bisogna dire la verità che, come in molte altre museali, in questo periodo è come dire, il coronavirus non ha aiutato ad accelerare i lavori e anche perché si è fermato tutto. Seconda domanda, io ho un computer vecchio, ve lo posso portare? Eh? Non sono io, sì, ne ho anch'io, però qui ce n'è uno. Sì, soprattutto se rischia di essere buttato via. Non scendiamo nel dettaglio. Se è un computer che ha un particolare interesse storico, noi siamo sempre felici di poterlo salvare dal rischio di essere buttato, perché il più delle volte sono oggetti che, anche se hanno interesse storico, non hanno un valore materiale, ed è un peccato che rischino di essere distrutti. Quindi, in generale, parliamone, probabilmente sì. Ci chiedono, scusami, mi chiedono, ma io sto leggendo qua. Voi fate corsi di informatica? In questo momento non teniamo corsi di informatica. La formazione, la divulgazione è una delle attività che facciamo. In questo momento, per i problemi, hanno difficoltà a tenere corsi, le scuole, scuole, per la nostra associazione, sarebbe uno sforzo troppo grande in questo momento. Ok, altra domanda. Cosa intendete per computer di importanza storica? Non è banale, perché uno dice, io ho un computer lì, secondo me è importante, storico, poi è una ciofeca. Aspetta, devono anche funzionare questi computer? Per portarveli? No, abbiamo la capacità di ripararli. È uno degli asset di valore della nostra associazione, è la capacità di restaurare e di riparare fino a un certo punto. Se è andato a fuoco sarà difficile, ma se non si accende tipicamente è riparabile. Anzi, se non si accende è il meglio, diciamolo. È meglio non accenderli i computer vecchi. È meglio non accenderli, se non si accende e rimane buio, forse sono i danni più facili da riparare, a differenza di quello che si potrebbe pensare. Questa sembra per Riccardo. Io ho dei vecchi manuali di informatica, che cosa posso farne? Io non sono io, è sempre. Io leggo. Sì, oltre che i computer e le periferiche, Mubin raccoglie molto volentieri anche le pubblicazioni, che possono essere libri, manuali, riviste. Abbiamo già una modesta, anzi discreta libreria, anzi biblioteca, anche questa a disposizione dei soci per la consultazione, non per il prestito, ma per la consultazione sul posto. Stiamo, tra l'altro, procedendo a catalogare i libri proprio in questi mesi e quindi ben venga il ritiro di manualistica, di libri di informatica, di pubblicazione in generale sull'argomento. Ma quindi, scusate, fatemi capire, non è ancora consultabile dall'esterno questa raccolta, questa biblioteca? No, no, per i soci, sempre. Ah, ok, ok, perfetto. Un'altra domanda interessante è sapere, i computer voi li vendete? Cioè, nel senso, esiste un mercato? Un mercato dei computer d'epoca esiste. Voglio smorzare gli entusiasmi, in generale non girano cifre particolarmente alte, se non per qualche esemplare molto, molto specifico. Per quanto riguarda... Cosa intende, scusa, un esemplare molto specifico? Cioè, quelli che valgono cosa sono? Solo per capire. Il computer che vale è l'Apple 1. Ah, ok. Che vale. Il computer che è stato pagato molti soldi è l'Apple 1. Ok. Il primo computer prodotto dall'Apple, ce ne sono pochi, e Apple è un nome ancora oggi di moda. E quindi, alle aste sono venduti quelle poche decine che esistono per centinaia di migliaia di euro addirittura, in tempi recenti. In Italia dovrebbero esserci ne tre o quattro, ad esempio, sono proprio rari. Computer che hanno un valore, quindi è il valore sul mercato, beh, lo fa naturalmente il mercato, quindi dipende da chi lo deve acquistare. Però, a quanto vedo, tra i collezionisti che commerciano i computer di valore sono antichi, funzionanti e modelli particolari. Posso citare l'Olivetti Programma 101, il primo personal computer, è venduto a cifre sulle migliaia di euro. Ed è abbastanza, un modello molto particolare, abbastanza insolito. Comore 64 non sono di grande valore. Smorso gli entusiasmi di qualcuno che, se vuole, vende un Comore 64. Per quanto riguarda noi, l'associazione non è, il commercio non è nelle attività che noi facciamo, anche se in passato, in seguito alla disponibilità di un numero ampio di oggetti uguali e funzionanti, abbiamo dismesso, vendendoli ad alcuni collezionisti privati, alcuni oggetti. Cioè i doppioni. Sì, per dirlo a imparare, i triploni. Ah, ok, ok, ok. E un'altra domanda interessante, il software lo collezionate? Cioè i programmi, quelle cose lì? Sì, diciamo che rientra nel... è un po' assimilabile alla biblioteca. Ah, ok. Perché tanto si impila nello stesso modo, no? Perché c'è anche il software in libreria. E comunque sì, certo, lo raccogliamo. Abbiamo anche un discreto parco software, anche di software un po' particolari, alcuni magari meno particolari, ma addirittura ancora imballati, perché abbiamo ereditato parecchi software mai utilizzati prima. Quindi teoricamente se uno avesse, come dire, dei file fatti con uno strano software che uno non sa bene con cosa aprire, è possibile rivolgersi a voi per capirmi di più? L'abbiamo già fatto, l'abbiamo fatto alcune volte in passato, in particolare alcuni anni fa, siamo intervenuti per recuperare dei dati salvati sui nastri dello ZX Spectrum di Tullio Regge. Niente poco di meno che. Sì, esattamente. Poiché i nastri erano vecchi, erano leggermente deteriorati e poiché il computer non è più in produzione da 40 anni, quasi, non era facile trovare tutto ciò che serviva per leggere. siamo riusciti a recuperare una parte di quei dati. Tra l'altro aggiungo che sul canale YouTube del Mupin e anche su Facebook, però il canale YouTube è più vecchio dell'uso dei video su Facebook, c'è una valanga di video relativi alle attività fatte dal Mupin in questi anni, varie iniziative, tra cui Abito Vistory, che poi ci spiegate che cos'è, che servono anche un po' per raccontare un po' la storia dell'informatica, qualche cosa, qualche curiosità, qualche chiccae. E Abito Vistory che cos'è? Io non ce l'ho ancora. Lui non ce l'ho ancora, era troppo piccolo. Aspetta Andrea. Signor Presidente, tocca a lei. Abito Vistory è una manifestazione annuale che raduna a Torino i retrocomputeristi. è nata nel 16, presso gli spazi di MRF, tra l'altro è stato uno dei primi eventi tenuti nello spazio MRF e è un modo per la nostra associazione per invitare gli amici. Come dicevo prima, c'è un'ampia comunità in Italia di collezionisti, restauratori, appassionati. Abito Vistory è ciò che il Mupin fa per invitare gli amici a venirci a trovare. Un'esposizione dove collezionisti, retrocomputeristi, associazioni analoghe alla nostra, musei, possono esporre una selezione di oggetti. Ha avuto un grande successo, mi fa molto piacere dire che è stato uno degli eventi che ha avuto la capacità di attrarre pubblico, pur essendo un raduno di collezionisti pubblico, anche di tutti i tipi, persone che non si occupano professionalmente di informatica e che non sono gli appassionati profondi di cui parlava Riccardo, che hanno avuto il piacere di vedere e di conoscere un po' della storia dell'informatica. Ho capito, quindi è più una cosa da detti ai lavori. Mentre l'anno scorso avete fatto una mostra alla GAM che era invece per un pubblico più vasto? Sì, è ciò di cui parlava prima Riccardo. Alla GAM abbiamo fatto la mostra sulla storia dell'informatica agganciandosi alla calcolatrice di Ronaldo. In questo caso era un evento di divulgazione per un pubblico di tutti i tipi. Anche in quel caso la risposta del pubblico ci ha dato grandissima soddisfazione. Ecco, ancora una domanda, poi possiamo vedere di anche cominciare a avvicinarci alla chiusura. Per Riccardo, ci sono altri musei importanti di informatica in Italia? Tu ne hai visti questa forma di musealità che tra l'altro non è musealità statica. Ci sono molti musei che molto probabilmente raccontano già il presente e il futuro e fanno anche divulgazione. Ce ne sono, al di là di questa esperienza torinese che sta nascendo e che fra poco potremmo vedere tutti, tra l'altro affiancata ai vicini di casa del Mufant. Tu ne hai visto, tu vieni da Liguria. In Liguria c'è qualcosa, ce n'è uno abbastanza famoso da lei. Sì, io sono stato a Savona, a All About Apple, che è un piccolo museo, ma molto ben organizzato, devo dire, dedicato appunto a tutto il panorama della produzione Apple, dove ho avuto il piacere di vedere l'insegna originale, e mi ha stupito tantissimo, vedere l'insegna originale Apple Computers fatta a mano, che era stata utilizzata da Steve Jobs per partecipare alla famosa fiera in cui aveva presentato i suoi primissimi computer, dove si può trovare in rete la foto di Steve Jobs dietro con l'insegna, ed è lì a Savona, risposta. Quindi consiglio a tutti, se hanno la possibilità, se sono in zona, andare a visitare quel museo che mi faceva raggiungere, perché è vicino al porto, dove arrivano tutte le navi, quindi a porata di mano. È abbastanza piccolo, però non troppo, c'è una dotazione completa di computer, a parte chiaramente l'Apple 1, che è una riproduzione molto, molto fedele, quindi è come vedere quello era, diciamo. E poi è possibile vedere tutti i computer, a parte appunto l'Apple 1, prodotti da Apple e tutte le periferiche, anche in quelle macchine un po' particolari, come ad esempio una console Apple, la Pupin, mi sembra il Pupin, che non conosce quasi nessuno, ed è tutto lì esposto e funzionante, che è un tema che a me è molto caro, sempre legato alla riparazione, cioè di esporre macchine che effettivamente funzionano, addirittura si possono utilizzare in effetti. Cioè lì sono a disposizione, quindi con un minimo di controllo, chi va può provare a usare il mouse, aprire le icone, lanciare dei programmi, da un Apple 2, un Apple 3, un Macintosh primo modello, e poi tutti gli altri Mac che sono sosseguiti con processore Motorola, Intel. Prima di chiudere, volevamo far vedere un video, che tra l'altro è stato realizzato da Riccardo, che è fatto col drone, che vede appunto la sede, e mi sembra che sia di un annetto fa più o meno, che rappresenta la sede del Pupin, che ci troviamo appunto nella parte nord di Torino, questa è una ex scuola che è stata poi riadattata. Tra l'altro ecco una cosa di cui forse dovremmo aggiungere, che stiamo aspettando che il comune, pardon Iren, realizzano una serie di lavori che dovrebbero portare a una ristrutturazione da tanti punti di vista, soprattutto dal punto di vista energetico, di questa realtà. Andrea, che cosa potrebbe succedere qua? Potrebbe, questo non dipende da noi, se dipendesse da noi sarebbe già successo, potrebbe essere ristrutturato completamente all'edificio, reso una sorta di dimostratore tecnologico di come può essere un edificio ad alta efficienza energetica. Quindi trasformare, credo che il piano sia trasformare una vecchia scuola in un edificio estremamente moderno. Super smart. Super smart, esattamente. Sono attività che il comune di Torino ha annunciato tempo fa, noi attendiamo speranzosi che le cose vadano avanti. Tanto per capirci. Sarebbe un grande salto di qualità per il nostro spazio. Quella piazza che vedevate prima è appunto la piazza nuova Valla, dietro a questa piazza c'è via Reis Romoli, nella direzione in cui stiamo guardando adesso sostanzialmente si va verso con Giulio Cesare Corso Vercelli, dall'altra parte si va sostanzialmente verso la zona dello stadio, della Juventus, quindi questo è lo spazio. Bene, direi che possiamo far poco chiudere. Prima di tutto, grazie. Secondo, raccontate brevemente dove è possibile incontrare il Mupin, quindi il sito, i social e quello. E poi se volete ancora aggiungere qualcosa siamo qua. Prego. Andrea racconta il sito, va. Il sito è facile da raccontare, www.mupin.it, lì potete trovare tutte le nostre informazioni, i numeri di telefono, le informazioni di contatto, la mail è info.mupin.it, naturalmente. Se qualcuno desidera conoscerci meglio, venire, organizzare una visita personale ad alcuni oggetti della collezione, o avere modo di conoscere meglio le attività e l'associazione, si metta pure in contatto. Noi siamo qui. Va bene. Riccardo, delle cose di cui ti occupi più, quando cominceranno questi Mupin Talk? Dai, seconda serie. Allora, io posso ricordarvi, intanto la pagina Facebook, che è facile da trovare, basta cercare Mupin, oppure il Museo Piemontese dell'Informatica, quindi di iscriversi alla nostra pagina, in modo da poter essere aggiornati non solo su Mupin Talk, ma su tutte le iniziative, i post che mettiamo, e appunto di iniziare a iscriversi alla pagina, in modo da poter essere informati quando partiremo, il prossimo mese, ripeto, con la seconda stagione di Mupin Talk, in diretta, giovedì sera, un giovedì sì, un giovedì no, probabilmente, e vedere, tanto potete vedere sulla pagina le puntate scorse, vedere le tematiche che abbiamo toccato, che sono sempre diverse, abbiamo parlato dallo spazio agli hard disk, praticamente all'uso dell'informatica nella musica, abbiamo veramente toccato nella prima stagione qualsiasi tematica, adesso abbiamo difficoltato anni di nuove per la seconda stagione, però stiamo mettendo appunto la scaretta, quindi seguiteci su Facebook. Va bene, grazie di tutto, soprattutto per le cose interessanti che ci avete raccontato, ci si vede presto, oggi chiudiamo il sabato di Digital Meet, e ci vedremo ancora domani, poi è finito, tutte però le puntate che sia quelle che sono state organizzate in Piemonte sia quelle nazionali, le troverete sul sito e sui social, grazie ancora e buona serata. Ciao a tutti.